Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con l'analisi di Ciccio, Benzina, Benzema 86, flashback, carta veramente interessante, con un prezzo ancora più interessante. Andiamo a vedere un po' com'è. Se ve lo siete persi, ieri abbiamo analizzato tutte le signature signings uscite nel video di ieri, quindi cliccate sulla i, o anche il video dove parliamo di quanto faccia schifo questo gioco, o analizziamo se fa schifo questo gioco, anche per questo avrete una i da qualche parte perché è un video molto interessante, se avete bisogno di consigliere squadra recuperatevi col video. Ma adesso andiamo a vedere com'è off-game. Oltre che il prezzo, è un giocatore molto interessante perché ha alto-basso come rendimento giocatore, che come worker per un attaccante, come una prima punta, va benissimo. Vuol dire che non rientra, sarà davanti, quindi bene. Poi è un 4-4, quindi mossa abilità ovviamente non è un 5, non può fare l'elastico, non ha alcune finte importanti e di conseguenza poi col piede debole non è affatto male, non è affatto male. 4 va benissimo per un giocatore come lui. Poi in termini di accelerazione di velocità scatto, è un giocatore che in questa versione dovrebbe correre, quindi sembra essere un giocatore con una buona corsa, sembra essere un buon finalizzatore che tira bene e preciso, ma non tira forte o bene dalla distanza. Non è l'altra versione che tira bene a tutte le posizioni, dimenticatela, però in area di rigore dovrebbe essere un buon finalizzatore, un giocatore che bene o male segna sulla carta. Poi passaggi, ah e non dovrebbe avere un gran che di tiro a giro perché ha sì il tiro di precisione, quindi magari sarà preciso fare il tiro di precisione e il tiro a giro, ma non sarà particolarmente con effetti e robe strani, cioè andrà dove deve andare, non è che prenda un effetto alla Beckham o robe simili. Come passaggio sembra fare il suo solo nello stretto, non sembra avere una visione, è un passaggio lungo sufficiente per fare i filtratoni, robe simili di impostazione. Palla al piede dovrebbe essere abbastanza agile, ma con un buon controllo e un buon dribbling, quindi secondo me sarà tanta roba. Fisicamente mi aspetto sia molto meno forte dell'altro, cioè un po' forte ma non incredibile, poi elevazione così così, con un'ottima posizione di testa, considerata anche l'altezza, non dovrebbe essere male di testa, essere molto resistente. Quindi nel complesso sulla carta secondo me è tanta tanta roba, ora sblocchiamola, vediamo un po' come in game insomma. Quindi com'è in game questo Benzema 86? Allora, innanzitutto analizziamolo per fasi. In termini di velocità corre, corre molto più di quanto mi aspettassi, perché 90 accelerazioni e 88 di scatto poteva definire un giocatore che, in termini di velocità, non era effettivamente il top, perché comunque 90-88 non è incredibile, cioè non è un'accelerazione assurda, però comunque... c'è una velocità assurda, però comunque era un'ottima velocità e un grandissimo upgrade rispetto alle versioni precedenti. In game corre bene, corre tanto, comunque sul primo passo qualche volta si perde qualcosina, non sempre, però qualche volta si perde qualcosina, probabilmente dovuto al fatto di come è strutturata la carta in termini boy type eccetera eccetera, però personalmente non ha una brutta corsa. Ora, grandissima parentesi che ci tengo a sottolineare, io sono abituato a giocare con Cristiano Ronaldo, che sulla carta è anche meno veloce questo Benzema. Sono abituato a giocare non con Mbappé, non ho giocatori del genere, io gioco con Diogo Iota, Messi, Ronaldo, nessuno di questi, è un velocista come Mbappé, come Neymar, di conseguenza ovviamente è anche un'abitudine, essendo più abituato magari per me è più semplice da utilizzare, perché ho sentito molte critiche nei confronti di questo Benzema. Però personalmente sulla velocità io onestamente mi sono trovato bene, l'ho trovato un giocatore che corre abbastanza bene, accelera, il primo passo riesce anche a esplodere abbastanza bene la corsa e prendere un stacco dagli avversari. E sottolineo anche che io però ho giocato con uno di ping tutto il tempo e un giga di download e 300 in upload, quindi anche questo sicuramente è inciso. Poi in termini di finalizzazione mi è piaciuto molto più del previsto, perché mi avevano dato tutti che segnava poco, che era un giocatore che comunque in termini di finalizzazione faticava. Il mancino l'ho usato relativamente poco, quindi poco da dire sul mancino. Di destro però, quando va sul destro, tira di potenza e incrociare, mi ha segnato veramente tanto. Fa anche dei bei pallonetti, quindi sia sotto il portiere che da un po' più distante, l'ho visto abbastanza preciso sui pallonetti, bene il tiro di potenza in area, anche da fuori area mi ha segnato. Tiro-giro malino, malino. Il tiro-giro non mi è piaciuto, non l'ho apprezzato particolarmente, in particolare da fuori area. Quei 2, 3, 4 che ho provato, non mille, non mi sono particolarmente piaciuti. Tirando nello stesso modo con cui tiro con Cristiano Ronaldo e con Messi, col tiro-giro non mi ha fatto impazzire. In termini di passaggi, invece, mi è piaciuto molto più delle aspettative. Perché? Perché in termini di passaggi, l'aspettativa che avevo da questo giocatore, considerando l'82 passaggio corto e l'82 divisione, era che fosse un giocatore che in termini di passaggi faticasse nell'impostazione, in particolare a lungo raggio, visto il 71 di passaggio lungo, e anche sui passaggi un po' più complicati, dove servirebbe un po' di effetto, visto il 77 di effetto. Però ha regista come trait di CPU, che sicuramente aiuta, e personalmente mi sono trovato bene nell'impostazione e i passaggi. Mi sono piaciuti un po' tutto quello che fa. Non ho mai provato ovviamente passaggi campo-campo, usandolo come primo punto, ho punto attacco a due, mediamente si gioca negli ultimi 11, 20, 30 metri al massimo. I filtranti dei 30 metri magari sono anche relativamente semplici, ma personalmente mi sono trovato bene con l'impostazione per quello che serve. Tant'è che alcuni si sono chiesti anche se fosse valido come trequartista. Come dribbling, forse poteva essere meglio, poteva essere peggio, secondo me rappresenta abbastanza bene quello che leggiamo nella carta. È un giocatore comunque abbastanza agile. Ovviamente l'agilità e le statistiche sono sempre proporzionate al body type e come è strutturata la carta. Se voi avete un giocatore che ha 99 agilità, ma pesa 100 kg e alto 2 metri, non sarà mai agile come Neymar. Di conseguenza Benzema non aspettatevi che possa essere agile come un giocatore che ha alto 10 cm in meno, pesa meno e meno forte fisicamente, ma ha la stessa agilità. Prima cosa. Ma ugualmente in termini di agilità, in termini di equilibrio, di dribbling, si muove proprio bene. Cioè in campo comunque ha un bel range di movimento, prende anche abbastanza spazio, riesce a mettere in mezzo il corpo. Quando fa le finte le fa con bella velocità. Cioè oggettivamente è veloce a fare le skill, uscire dalla skill a eseguirla. E generalmente a tenere un po' le fra i piedi è molto molto preciso. È reattivo. Meno secondo me di quanto leggiamo, perché comunque a volte su cui io posso perdere qualcosina, ma quando si tratta di finalizzare o attaccare, mi è piaciuto. E poi fisicamente non è pazzesco. Comunque regge, non sempre. Qualche volta mette anche male il corpo. Però comunque secondo me fisicamente non è così male. Di testa non salta. Oggettivamente non salta. Cioè è preciso. Quando deve colpire, colpisce i testa, va dove deve andare. Cioè mi ha fatto anche gol. Un paio, due o tre volte ho colpito. Le altre volte non c'è arrivato perché non è saltato. Poi ho visto anche che si fa anticipare sul movimento di testa, si fa mettere il uomo davanti. Anche se io magari col giocatore cercavo i premi di andare davanti da prima dell'avversario. Tende a non essere fortissimo in elevazione. Ora, bisogna anche vedere effettivamente rispetto alle altre versioni, alle abitudini che avete, a che giocatori utilizzate. Però se devo darvi un parere, innanzitutto come stile intesa, io mi sono tratto molto bene con Cacciatore. Quindi anche il mio parere è dettato dall'utilizzo con Cacciatore. Non ho usato altri stile intesa. L'ho utilizzato come attaccante. Attaccante a due, non l'ho ancora provato come COD. Me l'ha anche assintanti. C'è D, cioè S, esterno. Non l'ho ancora provato. E quindi, penso lo proverò oggi, in live o domani in live. Insomma, vediamo. Però lo proverò anche in quella posizione, penso. Come attaccante a due, mi è piaciuto più rispetto all'attaccante a uno? Ah, perché ho dimenticato una cosa. Nei movimenti non mi ha fatto impazzire. Non è... Non lo so. Il posizionamento offensivo che è elevato dovrebbe dettare dei movimenti molto importanti. Ha la capacità anche di stare in linea col fuorigioco. Ci sono delle partite in cui l'ha fatto bene, delle partite in cui l'ha fatto male, delle partite in cui si nascondeva dietro all'uomo, in cui faceva il movimento, secondo me, sbagliato. O almeno rispetto a quello che mi aspettavo io, per l'abitudine che ho con Cristiano Ronaldo. Quindi, in termini di posizionamento offensivo, mi è piaciuto di più uno, attacco a due. Perché comunque, essendo Ronaldo detta al movimento che piace a me, magari Benzema con il movimento opposto mi aiuta in un altro modo. Quindi in un attacco a due mi è piaciuto molto. In un attacco a uno non è male, qualche volta meglio, qualche volta peggio, però quando poi si tratta di finalizzare, segna, in particolare di destro. E... È worth o non è worth? Allora, ragazzi, secondo me c'è da fare una importante istinzione. Io ho visto paragoni tra Benzema e Cristiano Ronaldo. Ragazzi, Benzema, la Sbisi costa 100k, se la fate pagandola. Se la fate buttando roba dalla vostra squadra, io l'ho fatta pagandola 20k. Ma trovatevi un giocatore che vale così tanto e che è così forte come attaccante. Ora, altro paragoni che è stato fatto tante volte è quello del Player of the Month. Io non vi so dire se è meglio del Player of the Month perché non l'ho sbloccato. Io personalmente ho provato il base e il Player of the Month non l'ho provato. Però io non amo i giocatori così tronco come il Player of the Month o il base, sulla carta perlomeno. Questo è molto più agile, veloce, eccetera, eccetera. È un giocatore diverso, magari ha meno finalizzatore, magari ha un tipo di movente di mettere il fisico differenti. Però secondo me è validissimo. Cioè, secondo me, per 100k questa carta vale la pena almeno provarla. Poi magari dividerà e magari alcuni di voi diranno che fa schifo, altri diranno che è fortissimo. Però per 100k trovatevi in Liga un giocatore così forte. Per 100k, per un giocatore del genere, difficilmente ne avremo un altro benze mai il genere prima dei Tots. A me non è sembrato un tronco, o almeno sulla mia linea e sulle mie partite si mosso sempre agilmente. Lo proveremo anche oggi e se dovessi rivelarsi un tronco ve lo scriverò nei commenti o a qualche parte. Però personalmente a me è piaciuto particolarmente. Quindi niente, ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti.